Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Abmoxing. Oggi vi porto del materiale da lavoro. Oggi l'ho comprato, l'ho trovato in un negozio qui vicino a casa mia, pantaloni da lavoro della Capriol, che in questo kit al prezzo di 19,90€ vi daranno pantalone di buona qualità, devo essere onesto, e un micropile della Capriol, che è una marca italiana fatta per il lavoro. Io ragazzi ve lo consiglio, per il prezzo è onesto. Ora andremo a vedere il prodotto di per sé. Io l'ho già tolta dalla scatola e ora lo guarderemo insieme. Ecco, questo è il pile di buona fattura, è un materiale interessante, nero. Ok, ora andremo a vederlo. Questo è il pile di per sé, color nero. Cioè, taglia M, L, XL, XXL. Quello che vi consiglio, io generalmente vesto una L, una L di media. L-XL. Questa XXL in realtà è come se fosse un XL o una L abbondante, perché l'ho provato che c'era anche l'XL, ma era veramente stretto. Quindi io vi consiglio, se lo potete provare, provatelo. Se siete uno che usate la L, prendetevi una XL minimo, se no prendete anche l'XXL. Al massimo potete anche mettere, ragazzi, una cittura. Ecco, questo è il pile. Ora magari modisco la videocamera e vi faccio vedere meglio. Ok. Questa è appunto la felpa, il micro pile. È fino, ma è adatto per il lavoro, perché tiene comunque caldo, ragazzi. E poi qui abbiamo i pantaloni. Questi mi sono piaciuti veramente tanto. I pantaloni della Capriol hanno la vita elastica, quindi quando andrete a stringerli magari vi piegate molto nel lavoro, come io, io sui magazziniare e mi piego tanto. E questa qui è una cosa interessante, ma anche vada, come ho detto, mettete una cintura e via. Ecco, questo è il colore grigio. Non so se riuscite a vederlo. Ho messo la luce vicina, in modo che potete vedere meglio. Sempre della Capriol. Grigio e arancione. Ha la possibilità di mettere le ginocchiere. Ha una tasca. Come vedete... Ok. Qua. Qui, questa banda nera qua. Meglio che magari prenda il telefono e vi faccio vedere di persona muovendomi io, magari, così magari riuscite a capire meglio il pantalone, come è fatto, ecco. Questo è il discorso che dicevo qui, nella banda nera. Avete la possibilità di mettere all'interno dei ginocchiere. Nel caso in cui magari vi piegate in cantiere, cose così, potrebbe essere utile, come no. Adesso, scusa, stavo a voi. Qui c'è la possibilità di mettere il metro. Ok. Il metro è a varie tasche. Io ve li consiglio. 20 euro, ragazzi, è un prezzo buono. Il materiale è buono. Mi è piaciuto molto. È un materiale robusto, secondo me, di qualità. Io penso che questo prezzo non ci sia tanto di meglio, anche perché 20 euro vi dà anche il pile compreso. Il materiale non è il casco materiale di un cinesone, ma è il materiale di un capo di qualità. Capriol, come si è detto, è una marca italiana. È una marca leader nel settore dell'edilizia, ma non solo. In generale, lavori manuali, ecco, bricolage, elettricistemi, idraulici, cantiere, roba di... Io ve lo consiglio. 20 euro, ragazzi. Se vi interessa, non so se nella vostra città c'è la catena Brickoman, lo vende a 19,90 euro. Io ne ho comprate due, oggi, perché così io ricambio per una settimana e un'altra. Ne avevo bisogno, quindi... E niente, con questo io vi ringrazio per la visione, ragazzi. Condividete. Se volete, magari, lasciare un bel like e un bel pollicione in su, io mi farebbe veramente piacere. Intanto vi ringrazio per la visione. Mettete un bel like, un bel pollicione in su, condividete il video e commentate qua sotto se vi fa... Se vi farebbe piacere vedere altri tipi di materiale, magari a scopo lavorativo, perché comunque io non lavoro in ufficio e giustamente posso magari provare a portare qualcosa ogni tanto. Chiaramente, come ho già detto, in sto caso, siccome l'ho comprato per me, allora ho voluto condividere con voi il prezzo, che secondo me è buono e ve lo consiglio, ecco. Ciao ragazzi, grazie per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!